19.09 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 Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie. 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 da rosso, rosati, giugna, blu e l'intervento Sì! 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 Sì, 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 sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. Sì, sì. Sì, sì, sì. 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 Sì, sì. 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 . Sì. 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 Sì.